buona quindicesima domenica del tempo ordinario amiche e amici siamo dove siamo dove eravamo rimasti meglio chiediamoci questo dove eravamo rimasti eravamo rimasti al versetto 6 del capitolo 6 del vangelo di marco quando gesù quando si dice che gesù si meravigliava della loro incredulità gesù era passato per nazareth e si era scontrato con l'incredulità dei suoi compatrioti venne nella sua patria rimanevano stupiti di del suo insegnamento no si fanno delle domande poi si dice era per loro motivo di scandalo il brano di domenica scorsa aveva portati ci aveva portati qui in questa in questo scontro tra gesù e i suoi concittadini meglio compaesani dovremmo dire gli abitanti di nazareth il commento di gesù è molto sconsolato un profeta non è disprezzato se non nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua e lì non poteva compiere nessun prodigio ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì e si meravigliava della loro incredulità gesù fin qui ha sperimentato certo i segni importanti di questa sua forza che è dentro di lui la presenza dello spirito e la presenza della parola del padre gesù ha visto l'efficacia di questa sua missione però gesù ha sperimentato anche l'ostilità già terremenda da parte dei capi religiosi del suo popolo ha sperimentato la diffidenza totale dei suoi parenti c'era anche maria nel clan familiare che che tentano di andare a prenderlo perché dicono è fuori di sé pazzo portiamolo a casa facciamolo rinsavire gesù ha sperimentato sta sperimentando appunto l'incredulità dei suoi dei suoi concittadini ha sperimentato anche la poca fede dei suoi discepoli e quindi cosa fa adesso a questo punto di fronte a questa incredulità cosa fa si arrende cambia mestiere è sconsolato era tristato è bloccato assolutamente no gesù percorreva i villaggi dintorno insegnando e adesso arrivano i versetti successivi che sono il brano di questa domenica noi ci chiediamo ma allora gesù cosa fa a questo punto cosa fa allarga allarga gli orizzonti allarga le strade apre strade nuove gesù chiamò a 6 12 e prese a mandarli a 2 a 2 e dava loro potere sugli spiriti impuri eccetera eccetera gesù vuole che questa potenza che si chiama regno di dio che è questa forza di liberazione perché gesù compie gesti di liberazione dal male vuole che questa forza si moltiplichi si creino tante opportunità e che non dipendano soltanto dalla sua presenza fisica vuole condividere questa sua missione e questo suo potere questa sua facoltà la vuole condividere anche con i discepoli e vuole che il regno di dio si espanda il più possibile e si allarghi che germogli ecco e allora lui condivide tutto questo con i dodici il brano di oggi è molto interessante perché ci indica quattro ingredienti della fede cristiana dell'annuncio cristiano della testimonianza cristiana cos'è l'evangelizzazione in cosa consiste l'evangelizzazione molto semplice innanzitutto gesù chiamò a 6 12 e prese a mandarli a 2 a 2 nessun battitore libero nessun navigatore solitario nessun single che va a fare il supereroe o che mette se stesso al centro dell'attenzione no a 2 a 2 punto numero 1 la fraternità è la prima grande testimonianza di fede e di annuncio che possiamo dare sono i nostri legami i nostri rapporti il modo in cui noi cristiani anche noi preti chiunque stiamo insieme lavoriamo insieme dialoghiamo creiamo creiamo qualcosa di bello insieme e interessante questo l'evangelizzatore il missionario il discepolo l'apostolo è chiamato a questa missione a 2 a 2 secondo ingrediente dava loro potere sugli spiriti impuri e il brano finisce così ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano con olio molti infermi e li guarivano lo scopo dell'annuncio cristiano della fede cristiana è fare arretrare il male e lasciare che si diffonda questa potenza di bene questa potenza terapeutica solo ed esclusivamente parole e gesti liberanti non opprimenti come la parabola del samaritano tenerezza e cura compassione e amore concreto terzo ingrediente ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone né pane né sacca né denaro nella cintura ma di calzare sandali e di non portare due tuniche la povertà e l'essenzialità questo è molto provocatorio ci ci chiede qual è anche il mio il tuo il nostro rapporto con il denaro con i soldi con i beni materiali quarto ingrediente entriate dovunque entriate in una casa rimanetevi finché non sarete partiti di là entrate nelle case vivete anche la convivialità create legami creare legami fraternità essenzialità e essere terapeutici buona missione a tutti